Sto facendo Davito Si può fare Nell'altro sistema si può fare Tu dove la sposti Dove la sposti Prima la spostavo sotto Adesso ho provato a spostarla prima Ma Prima c'è il sasso che la vuote Eeeh Guadagni poco Ti sposti di poco E' vero anche quello E' arrivato E' arrivato E' arrivato E' arrivato E' arrivato E' provo ad andare lì Non puoi spostare sotto lì Ma boh E' dura E' dura E' Sembra facile Ma non è tanto semplice Ma non è tanto semplice A zero Via E' 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 Ormai è diventata l'obiettivo quella curvetta lì E' E' Adesso riprovo senza spostare E' 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 siamo cotti per il più è arrivato il gufo e ora sono cazzi il gufo tiene i parafanghi non 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 . . . . . . . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.